Il Paradisi delle Signore Nove, Anticipazioni, Armando esce di scena dal cast della S.O.P. Pietro Genuardi, al secolo Armando Ferraris del Paradisi delle Signore Nove, ha annunciato sui social che lascerà il cast della telenovela pomeridiana Rai 1. L'annuncio ha lasciato senza parole molti fan che lo guardavano con amore da molti anni. L'attore ha spiegato che la sua decisione era basata su motivi di salute. Da tempo soffriva di una grave malattia del sangue che necessitava di cure a lungo termine. Quando lascia il cast, anteprima di Ladies Paradise Nove nella prossima puntata i telespettatori del Paradisi delle Signore potranno ammirare l'uscita di scena del magazziniere Armando Ferraris. Divenuto negli ultimi anni uno dei volti principali delle serie pomeridiane in onda su Rai 1. Da affrontare. L'interprete di Armando, Pietro Genuardi, ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui spiega i motivi di questa scelta, spiegando che Armando non apparirà nelle future puntate della soap. L'attore sta affrontando un periodo delicato della sua vita, rivelando di avere una grave malattia del sangue che richiederà cure molto lunghe e un trapianto di midollo osseo. L'attore Pietro Genuardi ha rivelato sui social di aver dovuto assentarsi per motivi di salute. Sto affrontando il secondo ciclo di protocolli di chemioterapia e non potrete vedermi in onda molto presto, ha aggiunto l'attore sui social. Ringraziando tutti i colleghi che gli sono stati vicini in questo periodo e aggiungendo, spero che tu mi abbia fatto sentire vi prego. Sostenetemi con la vostra energia affinché io possa guarire e tornare presto al lavoro, ha aggiunto Pietro Genuardi in un messaggio social, in cui è membro del Dipartimento di Oncologia e Dematologia del Policlinico Umberto I di Roma. Ha espresso un ringraziamento speciale all'intero Dipartimento di Medicina Interna. Armando aiuta Marcello a superare la crisi che sta vivendo mentre Marcello attende notizie positive da Pietro Genuardi riguardo alla sua salute. L'anteprima della prossima puntata mostra che Marcello, che apprende la verità sul caso Offer, saprà sfruttare al massimo la crisi che stanno vivendo lui e suo fratello Armando si è dimostrato che svolge un ruolo importante nell'aiutare. Grazie alla sua esperienza e maturità, potrà ancora una volta dare consigli utili a Barbieri e aiutarlo a risolvere al meglio questa complicata situazione di cui lui, insieme a suo fratello, è il protagonista. Pertanto, i fallimenti nella loro relazione possono essere evitati.